ragazzi scusate dell'interruzione allora dicevo che Alimentos ha parteggiato all'udienza di quest'oggi 30 maggio ok quindi riapriamo il nastro che avevo cominciato a dire queste cose però se non vediamo come sono degli sbagli allora prendere niente alle coppe perché ha nato prima la fiducia ad Allegri poi ha nato l'ok a Johnny Khan che non deve confermare come alleatore però va bene così che siccome hanno fatto un imbroglio allora alla crisi non deve andare e questo a me non mi sta bene perché della maggior parte dei tifosi sono cattivi nei confronti dei giocatori anche sono gli allenatori lo stesso quindi tutto qua spero che ognuno dice la sua ok quindi diciamo che Alimentos ha parteggiato finalmente ma insieme con la federazione della nazionale di Camina che però ha accettato e quindi Andrani non farà parte dal 15 giugno di un altro filo delle stipendie ok che questo è il secondo e non è il primo quindi mi raccomando e dall'anno prossimo si cerca la vittoria nello sconetto ok che ci sono infatti prima 15 punti di penalità e poi di 10 punti di penalizzazione e questo non mi sta bene e quindi facciamo ricorso ok ok cara dirigenza bianconera fate subito ok fate subito a fare questo ricorso perché è importante perché momentaneamente in campo stimo a 69 ok però siamo settimi è vero e possiamo anche raggiungere al quarto posto al quarto posto o al terzo posto perché al secondo c'è la nazionale e invece mentre che cosa ha fatto niente quindi questo è tutto però prima di parlare di questo che la Juventus ha tirato i campionati qui 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 ci mannù ti fosse dun'apro ma che cosa abbiamo alterato ma stai zitto stai zitto che non abbiamo alterato niente stai zitto impara stai zitto stai zitto impara impara Te lo ripeto, noi abbiamo altri due campionati dal 2015 al 2020, no, quello pensi tu, noi, perché io ho vinto una scuola di fila, handicappato, tu sei handicappato, tu non vieni a parlare con me, qua sotto, ok? Perché io ho vinto un dicio scuola di fila, compà, dicio scuola di fila, mint. Tu invece, che se non pommet, ti tre scudet, e mi ti interessa, perché io vorrei stare, e quando finisci, da sfortuno, eh? Quindi questo, te lo ripeto ancora un'altra volta, che non hai capito. Se come un argumento si ha alterato i campionati, non è vero. Stai zitto, incapace, caci, stai zitto, impara, impara, che cos'è? La matematica, europa league, ok? Impara, 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 impara! Ma te lo rispito un'altra volta. Mettiamo un hashtag, ok? Te lo ripeto ancora un'altra volta. La juventosa ha alterato i campionati, dal 2015, 2020, no, sul campo. Ma te lo rispito un'altra volta. La juventosa ha alterato i campionati, no, sul campo, sul campo, amico. Non cantare vittoria, che tu non ce n'hai, quello scudetto lì, dal 2019-2020. Taci, 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 taci. Ma vedi quando tu rispito una tavola, che tu non capisci, no, cazzo. Eh? Ma te lo rispito un'altra volta. Tu hai detto, che se mi dicevi lo scudetto nel 2018-19, taci. 2019-20, taci. Che si è arrivato al secondo. E che cosa significa? Mi sono scudetti, ma vinto. Dieci. E non vanno a fine. Che vuoi, che mi trovi. Sto bambino. Speriamo che tu vedi a così muo. E capì? Ma te lo rispito un'altra volta. Se come noi abbiamo alterato i campionati, dal 2015-2020, no, sul campo, amico. Devo cantare vittoria, sul campo. Sul campo. Sul campo abbiamo mangiato tutti. Sul campo. Sul campo. E capì? Stupido. Stupido. Io vi tolgo i commenti da qua, perché, se no, mi piacciono. Io vi trattengo, perché sono uno che dice le cose come stanno. Ok? Quindi, ma il Ventus ha accettato e mi farà ricorso. Sì che non deve fare. Sì. Tu Non fate niente, la vita vostra. Tre scudette, tenitemi. Tre. E non rimane, iscate a noi. Ok? Caro Napoletano. Noi, ma non ho messo. Noi, voglio in tribunale. E poi, ma non ha avuto il campionato. Quando noi, ma non è un po' di. E non ho scudato il finale. Stimbaling. Speriamo che deve essere un giro, ma non è un po' di. E non è un po' di. Stupido, stupido e stupido. Quindi, questo. Io minco. Nella ultima giornata. ok che c'è ancora speranza nell'europa ragazzi perché è importante quindi pensiamo prima all'extracampo che nel campo quindi questo è tutto per una cosa che mi fa ridere è che gli enti mi dicono che anima in serie B, serie B, serie B, serie B, serie B, serie B, ma il vostro esaurimento non ha limiti voglia mettere l'esaurimento in testa serie B, serie B, serie B, serie B, serie B, serie B, basta, 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 basta eh, basta, serie B, serie B, serie B, serie B, serie B, basta, basta, basta hai capito come dicevo qui, come giochimis basta, 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 basta così è famoso devo imparare capra, ignorante stai zitto e non dire niente, ok? caro napoletano quindi questo è a parte e lo so ma chiudiamo quel discorso, ok? ma pensiamo a noi perché abbiamo pateggiato però andrà una multa di 718.000 euro alla società che i punti hanno restituiti a noi Ventus, ok? quindi dalla stagione in corso dell'anno prossimo ci sarà almeno qualche speranza in zona Europa quindi vendiamo di tutto però mi dico i pronostici di domani e per mercoledì prossimo, ok? poi da domenica e quindi mi dico che cosa ne penso allora per concludermi io dico che non metti iscrivervi al canale se non avete ancora fatto e ti mando le notifiche per non prendere i prossimi contenuti quindi ho solo questo da dire like e basta quindi questo dovete fare solo perché non c'è perché non ci sono gli abbonamenti e tutto che non dovete paccare niente va bene? quindi io confido in voi prima cosa seconda cosa arriviamo a 300 iscritti che mi mancano solo 250 iscrizioni per farlo, ok? quindi mi raccomando e raggiungiamo questo obiettivo quindi ho solo questo da dire allora pronostici di Europa League e Conference League, ok? che anche sono Champions League allora allora la Roma in generale sicuro perché Mourinho nascerà da Roma a fine stagione, ok? come sono anche Tudor anche Tudor ha nasciato in Marsilio però era Anna Eumentus e speriamo di sì quindi quindi questo dobbiamo parlare quindi Mourinho deve minire l'Europa League per arrivare in Champions, ok? per arrivare in Champions, ok? quindi solo queste tre squadre possono competere ho detto ho solo questo da commentare e basta e non aggiungo altro quindi finire il discorso e chiuderemo così in benezza in questa sera danni cazzo quindi c'è tutto mi raccomando e poi Mourinho Ventus giochera contro l'Uniese in fuori casa che nasce mentre quindi abbiamo detto che Rambio Seneva Parrentes Seneva Miretti Seneva sicuro perché Barnechea e Ataren è di Maria ok? e anche sul futuro incerto di Conrado anche perché non è netto che se lo rinnovi a Conrado rieschi qualcosa però non devi lasciare partire caroane a Cri ok? quindi farlo per l'Aiumentos non devi fare per il bene di quest'Aiune ok? quindi è meglio che chiudiamo questo discorso e meglio sarà quindi lunga vita aiutra benvenuti amici ultras mi raccomando e sempre fino alla fine attaccamento per la maglia e forza io sempre sempre ok per la maglia